io mi sto già riprendendo saluta intanto sono ancora viva è difficile spiegare mi sto già cagando sotto mi sto già cagando addosso questo è un saluto ah devo già andare vabbè raga ora sono viva dopo non si sa ciao buon dia a tutti amici di doppia affezione siamo tornati con un'altra reaction so che stanno facendo un botto con carli blume ciao raga ci sarà instagram qua sotto e ora andremo a farci un bel giretto sempre dalle mie parti perci sempre salve signore dai se deve andare di A vado di A salve ok via posso farlo un mediamente? si vai verso 6 si 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 per ora è tutto a posto beh per ora quanto tiri? ma io giusto poi vedo quanto ti dipende di quanto ti prende a te per te per te per te per te lo stai pari Oh, cazzo, vero! Fatto! Sei un pazzo! Qua si diventa di scaldare la macchina In serio? Si L'ho appena accesa, eh Non faccio caso di GoPro Minchia quanta gente oggi E' vero che dopo torli piano? Si Si, si proprio Oh, Gesù Cristo E' vero che dopo torli piano? Non ancora Non ancora Non è abbastanza veloce Mi diverto! Minchia, meno male! Sì 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 Mi ricorda davvero che stavo per andare fuori strada No! Meno male! No! Perché io si Ok, però ancora dietro è toccata, bene Faccio Sì Io sto cercando di guardare le facce carine ma non ce l'ho mai Se guarda le facce terrorizzate è meglio Per notarmi Sì Purva pericolosa Non morirmi Non morirmi Sì Sì Perché non fanno le telecamere con anche il sistema olfattivo? Sarebbe bellissimo Sì Così da che versi è ancora più dolce Mamma mia! No! No! Ah, cazzo! Senti che i freni Cosa che non ti porta via il tempo No perché poi Oh, no, che cazzo! Che ti vedo! video su youtube a breve raga di carne e blume che ti caga non so se si sentiva qualcosa e ma meglio ah e adesso madonna Che cattiveria 102 Povero Che povero No proprio Povero Omar Sì Salve Non mi ha salutato Non mi ha salutato Ci sono rimasto mare Vabbè salutiamo Salto Salto Dai dai Ci sono Il mio articolo Non c'è 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 Vai 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 Corri Corri No panda Panda Stai qui Ok Qui si saranno Qui si saranno dicendo Ma che cazzo è questo Che continua a girare a caso Ok Siamo arrivati a destra inizio Vivi Non è ancora Cazzo No Ho rinforzato tutta Videocamera Bene Non è Fare un saluto anche dietro Aspetta C'era polvere C'era polvere Aspetta un attimo Ok Ora Ratina si deve Raffreddare un attimo Perché se no Muore Com'è che si chiama Ratina Ratina Sì Cosa sta succedendo Eh Possiamo mettere le ciglia Le ciglia No Ti ammazzo Ma direttamente Comunque Saluta Che abbiamo finito il video E ci vediamo Una prossima reaction